ci sono quelli che vengono schiantati dal dolore quelli che diventano pensosi ci sono quelli che parlano del più e del meno sull'orlo della tomba e continuano in macchina del più e del meno neanche del morto, di piccole cose domestiche ci sono quelli che dopo si suicideranno e non glielo si vede in faccia ci sono quelli che piangono molto e cicatrizzano in fretta quelli che annegano nelle lacrime che versano e quelli che sono contenti, sbarazzati da qualcuno ci sono quelli che non riescono più a vedere il morto tentano, ma non ce la fanno il morto ha portato con sé la propria immagine ci sono quelli che vedono il morto ovunque vorrebbero cancellarlo vendono i suoi tre stracci, bruciano le sue foto traslocano, cambiano continente ci riprovano con un vivo ma niente da fare il morto è sempre lì, nel retrovisore ci sono quelli che fanno il picnic al cimitero e quelli che lo evitano perché hanno una tomba scavata nella testa ci sono quelli che non mangiano più ci sono quelli che bevono quelli che si domandano se il loro dolore è autentico o costruito ci sono quelli che si ammazzano di lavoro e quelli che finalmente si prendono una vacanza ci sono quelli che trovano la morte scandalosa e quelli che la trovano naturale con l'età per cui, circostanze che fanno sì che è la guerra, è la malattia, è la moto, la macchina, l'epoca, la vita ci sono quelli che trovano che la morte sia la vita e ci sono quelli che fanno una cosa qualsiasi che, per esempio, si mettono a correre a correre come se non dovessero mai più fermarsi è il mio caso è il mio caso è il mio caso grazie a tutti